Si è scagliato contro Donald Trump, il presidente dell'Iran, Hassan Rouhani, in occasione delle celebrazioni del 38esimo anniversario della rivoluzione islamica che nel 1979 portò alla cacciata di Reza Pahlavi, ultimo Shah. Milioni di persone si sono riversate in piazza Zadi, che significa libertà. Negli Stati Uniti, chi è arrivato da poco al potere e minaccia il nostro governo e le nostre forze armate, deve sapere che il nostro popolo è unito. Manifestazioni anche in altre 5.000 città del paese dove si leggono slogan contro le politiche di Trump a causa dell'imposizione di nuove sanzioni all'Iran dopo un test missilistico effettuato due settimane fa da Tehran.